E mentre passeggio nel chilling vi volevo un attimo spiegare due cose Per tutta quella gente che dice ma chi sponsorizzi? Ragazzi lo sapete bene come sono io, io non sponsorizzo nessuno Voi che facciamo qualcosa io entro in affari con te e così so cosa fai al 100% Io non sponsorizzo nessun bastardo, io non mi accontento di 1000€ per una storia E poi tu te ne fai 40 per una mesta Non funziona così Io ci sono dentro in un business 100% finché non capisco se sto business frutta io non ci sono dentro Quindi se ci sono dentro un business è perché so che fa fare prima a me Perché se non fa prima a me io non ve lo consiglio Poi ve lo consiglio a voi se prima fattura a me Quindi ragazzi Quindi in poche parole questo è il mio business Ho iniziato a fare sta roba da poco e inshallah vorrò arrivare a dei livelli alti Quindi adesso pian piano sto iniziando a far conoscere alla gente quello che sto facendo Che è il trading Non sponsor qua, sponsor là, sponsor là Io mi concentro solo su una cosa e faccio quella Quindi già lo sapete che io adesso mi sto concentrando su sta cosa perché so che ha i suoi frutti E se lo consiglio anche a voi è perché lo so che vi frutterà un giorno E quando mi beccate in giro non mi direte Don posso fare una foto? Mi direte Don grazie per farmi fatturare ogni mese Già lo sapete entrate qua e vi insegniamo noi Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!